Ancora area di festa in città a Brindisi dopo la vittoria di Barletta, non solo per il successo contro una diretta concorrente e per un derby particolarmente sentito, ma in particolare per il risultato e i tre punti che lanciano un forte messaggio al campionato e alle ambizioni della squadra brindisina verso il primato in queste ultime sei gare che dividono il Brindisi al termine della stagione. Le ultime tre in particolare in cui la squadra adriatica affronterà prima in trasferta il Nardò e poi la capolista cavese al Fanuzzi, ovviamente una classifica attualmente virtuale in attesa che sia la formazione campana che il Nardò scendano in campo domenica pomeriggio per il loro turno di campionato a completare la giornata. In attesa però di questi risultati il Brindisi si gode il momento e questa classifica genera entusiasmo intorno alla squadra adriatica come dimostrato dall'accoglienza numerosa e calorosa dei tifosi adriatici al rientro della squadra dalla trasferta di Barletta allo stadio Franco Fanuzzi. La scelta della società è il giorno successivo di far disputare a porte aperte l'allenamento congiunto contro la formazione Juniors per dare un ulteriore momento di contatto tra squadra e città. È proprio su questo entusiasmo che il Brindisi vuole lavorare senza distrazioni all'obiettivo finale. Il tecnico Danucci ha concesso qualche giorno di riposo alla squadra Brindisina prima di riprendere la prossima settimana gli allenamenti che vedrà il turno di campionato fermo nella domenica del 26 di marzo per poi ritornare in campo. La settimana successiva contro il Fasano non è escluso che la società adriatica chieda di poter anticipare così come è successo con il Matera il match contro la squadra fasanese al sabato sera. Ovviamente c'è tutto il tempo per lavorare a questa gara che sicuramente darà ancora un'ulteriore risposta di entusiasmo alla squadra adriatica per la conquista di altri punti verso la vetta del campionato.